Alla scoperta di più di 30 aziende florovivaistiche della provincia di Chieti e Pescara apriranno eccezionalmente i loro spazi oggi e domani per visite guidate ai luoghi di produzione, workshop gratuiti sulla cura delle piante e possibilità di acquisti anche nelle aziende normalmente chiuse al pubblico. Un'occasione unica per scoprire le novità del vivaismo abruzzese ricco di eccellenze e sempre orientato verso l'innovazione con le migliori aziende vivaistiche delle province di Chieti e Pescara. La manifestazione Vivai Aperti 2021 è una iniziativa promossa da Camera di Commercio Chieti-Pescara, Assoflora e Arfa. Questa è un'iniziativa che porta ad avvicinare il consumatore abruzzese e non alle attività che sono qui in Abruzzo. Non abbiamo niente da invidiare alle altre attività florovivaistiche in Italia e all'estero perché abbiamo l'eccellenza in assoluto di giovani piante e piante ornamentali qui in Abruzzo. Diciamo che questo avvicinamento degli abruzzesi nei luoghi di produzione serve anche per far capire loro la qualità delle piante che noi produciamo, qualità intesa come riuscire a produrre in maniera sostenibile, riuscire a produrre senza utilizzare grossi quantitativi di antiparassitari o di concimi, recuperare l'acqua piovana, recuperare il concime che noi utilizziamo, tutto per evitare quello che noi possiamo fare di danno al nostro ambiente. Presidente, il settore è in forte ripresa dopo il periodo dell'emergenza sanitaria, questo è sicuramente un dato positivo? Il contraccolpo l'abbiamo preso anche noi, però giustamente anche con la piattaforma internet si è riusciti a soddisfare le esigenze, a stuzzicare le esigenze dei nostri consumatori. L'attività si è capito anche da parte loro e questa è una manifestazione, un evento che porta ad aumentare questa richiesta e questa necessità di verde in casa e nei nostri giardini.